oggi per global web tv parliamo di trasporto merci pericolose con uno dei massimi esperti consulente adr claudio sensi grazie per la disponibilità già luca ciao grazie a te quando parliamo di merci pericolosi cosa intendiamo anche perché dobbiamo fare informazione su questo argomento si oggi parliamo di merci pericolose cosa sono le merci pericolose sono tutte quelle sostanze liquide o solide miscele ma anche oggetti che possono provocare danni alla salute delle persone o alle cose ecco queste merci sono per l'appunto normate dall'adr l'adr l'acronimo sta per agreement dangerous road è l'accordo che regolamenta il trasporto internazionale di merci su strada merci pericolose per l'appunto dunque come avviene la classificazione di queste merci e perché c'è stato bisogno di una normativa internazionale siamo al termine della seconda rivoluzione industriale ci sono moltissimi prodotti di derivazione petrolchimica che girano per il mondo per il globo sotto legge da delle nazioni unite nel 1957 a ginevra si riuniscono degli scienziati che tendono ad armonizzare le diverse legislazioni ed ecco che si inizia a stilare una lista di prodotti pericolosi da lì avanti negli anni viene varato questo regolamento in italia in particolare nel 1996 viene recepita questa direttiva ed ecco che ci ritroviamo quindi un elenco di sostanze pericolose normate dall'adr che hanno determinati pericoli la classificazione avviene proprio in base ai pericoli gialluca ci sono ad esempio i prodotti esplosivi comuni fuochi pirotecnici che rientrano nella classe 1 o i liquidi infiammabili che rientrano nella classe 3 ora non sarò ad elencare le 14 classi naturalmente però è per spiegare come ogni singola sostanza sia stata identificata e anche caratterizzata da un numero di quattro cifre proprio detto numero onu il gasolio la benzina parliamo di sostanze quindi comuni hanno il numero onu 1202 1203 il gpl gas di petrolio liquefatto 1965 sicuramente avrai presente quando siamo su strada ci sono dei camion che circolano e vedrai quei grandi pannelli arancioni se fa attenzione al numero sotto di quattro cifre con quel numero tu puoi identificare qualsiasi merce sia trasportata in quel momento all'interno del camion poi c'è da dire una cosa abbiamo si è appurato nel corso degli anni che c'era bisogno di una figura che garantisse il rispetto di tutte le principali normative in materia di trasporto merci pericolose nel 1996 quindi nasce questa figura la figura del consulente adr e nel 2000 abbastanza recentemente viene introdotta in italia l'obbligatorietà di nominare un consulente adr per tutte quelle aziende che trasportano merci pericolose a questo proposito come si diventa consulente adr molti anni che svolgi questo ruolo oltre a essere imprenditore del ramo trasporti come si diventa consulente adr io nasco proprio come consulente adr gianluca ricordo come se fosse oggi il 2002 eravamo io e tanti tanti ingegneri a fare i primi corsi che la motorizzazione introduceva ecco diventare consulente adr richiede anzitutto la partecipazione a un corso di formazione altamente specializzato erogato quindi da enti accreditati dura diversi mesi che ti consente per l'appunto di prendere familiarità con i principali concetti della normativa la classificazione delle merci la natura degli imballaggi l'etichettatura la tipologia di mezzi di trasporto diventare consulente adr quindi richiede il superamento di un esame un esame che viene svolto in sedute bimestrali normalmente ogni due mesi presso le principali motorizzazioni c'è una seduta di esame un esame in due step una lunga serie di domande risposta multipla e uno studio del caso dopodiché inizia il bello perché per essere un consulente adr bisogna fare tanta pratica in un'azienda che contribuisce poi alla formazione sul campo e gli esami non finiscono mai perché ogni cinque anni c'è da fare un esame di rinnovo quindi ogni consulente adr in europa ha una scadenza di questo certificato ed è giusto così poiché gli aggiornamenti devono essere garantiti per i consulenti che poi sono i principali soggetti che aiutano l'impresa consigliandola ad espletare tutte le principali funzioni in materia di sicurezza sul lavoro quindi giusto essere aggiornati consulente adr che però è un ruolo che ovviamente supporta le aziende di trasporto merci pericolose ma non è regolamentato da un vero e proprio albo che cosa si può fare in prospettiva futura anche perché stiamo parlando di un ruolo riconosciuto a livello europeo faccio solo una precisazione Gianluca il consulente adr non supporta solo le aziende di trasporto ma supporta tutte quelle aziende che hanno a che fare con merci pericolose quindi principalmente trasportatori ma anche caricatori scaricatori gestori di tank container e la novità di quest'anno dal primo gennaio 2023 c'è l'obbligo di nomina anche da parte degli spedizionieri cioè soggetti che non hanno mezzi di trasporto che non hanno depositi ma che hanno rapporti molto importanti con operatori di trasporto operatori terminalistici e devono nominare un consulente adr e stare molto attenti agli iter procedurali alla trasmissione dei documenti eccetera ecco per il futuro per il futuro è stato fatto tanto in tutti questi anni per il futuro si sta valutando insieme al ministero delle infrastrutture dei trasporti e insieme agli ordini professionali l'istituzione di due albi allora per quanto concerne le imprese è un po come viene avviene per le aziende che trasportano rifiuti quindi l'albo gestore ambientali un albo dei trasportatori qualificati adr si parla tanto in questi mesi del codice di pratica c'è una serie di requisiti che un'azienda deve dimostrare e quindi rilascio di un codice da parte del ministero che certifica questa abilitazione per il consulente non c'è ancora un albo professionale e questo è un qualcosa da istituire al più presto perché poter fare riferimento ad un ordine ad un albo consentirebbe a tutti i consulenti di innanzitutto confrontarsi e ad avere anche una sorta di aggiornamento costante unico dall'ente stesso ecco con queste due piccole manovre a mio modo di vedere il più sarebbe fatto avremo veramente avremo veramente un'eccellenza in italia grazie claudio sensi per questo approfondimento con precisione e dovizia di particolari buon lavoro grazie a te gianluca